Semplicemente te. Il piacere mi inebria i sensi dolcemente, assaporando al meglio il dolce profumo che mi avvolge in una fantasia magica emanata da quei riboli di caldo fumo. La sensazione che provo è unica. Il sapore è un'esplosione crescente di emozioni che mi riscaldano le labbra per poi scendere a rincuorare lo spirito. È incredibile quanto quel liquido riesca a farmi fantasticare sull'infinito, facendo accrescere il mio ardore languido, un tocca sana per le mie stanche membra. Dopo aver posato la tazzina di cristallo, guardo fuori dalla finestra. La mia mente ora è tornata in quel regno di metallo che si mostra. Grazie. 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 Grazie.